C'è mancato poco che riuscisse a mettere a segno la truffa dello specchietto e a intascare 200 euro da una donna di 70 anni a cui ha fatto credere di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale in via del Purgatorio. La consegna dei soldi però è stata vista dai carabinieri che casualmente si trovavano a passare dalla strada in quel momento e che subito sono intervenuti arrestando il truffatore, un pregiudicato italiano di 26 anni residente a Prato. Il nostro equipaggio ha notato un passaggio anomalo di denaro tra una signora che era a bordo di una motore di motovettura, una signora anziana e un giovane che gli si era avvicinato con uno scooter. In pratica il giovane insisteva per farsi risarcire di un presunto danno causato dalla signora a bordo della macchina e abbiamo trovato in tasca anche un accendino intriso di vernice con il quale simulava il graffio sul ciclomotore. Dagli accertamenti svolti è risultato che analoghe truffe le aveva perpetrate su Prato anche ai danni di altre persone anziane della provincia, quindi è stato tratto in arresto per reato di truffa e tentata truffa.